L'urbanistica è un problema che va avanti da diversi anni, perché non è che uno si sveglia oggi e dice l'urbanistica non funziona, l'urbanistica andando avanti nel tempo ha perso delle professionalità interne, quale il dirigente, alcuni istruttori che sono andati in pensione che erano storici e questo personale non è stato rimpiazzato, non c'è stata la lungimiranza di formare del personale che potesse oggi, in un momento così delicato, rimpiazzare quelli che sono andati in pensione. Quindi chiaramente questa situazione ha portato a un dilatamento di tutto, sia delle pratiche di accesso agli atti, sia del rilascio dei permessi di costruire. Oggi capiamo che il governo Draghi fa il decreto rilancio con il bonus 110% e tutti i vari decreti per rilanciare l'economia, se tu non sei pronto, anzi sei in difficoltà, tu questa opportunità non la puoi cogliere. Allora noi ci siamo allarmati, già un anno fa, poi abbiamo presentato qualche mese fa una mozione dove abbiamo chiesto incremento del personale urbanistica. Tutte risposte molto leggere e insignificanti da parte del Comune, anche gli ordini in qualche modo si sono fatti sentire, quindi noi pensiamo che sia, siamo già in ritardo, comunque sia urgente assumere delle persone all'urbanistica perché quelli che stanno lavorando duramente non riescono comunque a dar risposta a tutte le domande che pervengono. Comunque voglio ribadire che l'assessore Nobili per dire ha ereditato questa situazione perché lui è diventato assessore da poco, la situazione va avanti da tempo, quindi per lui sono grosse difficoltà, la responsabilità grossa ce l'ha il sindaco con la vecchia gestione del personale. Anche se tu devi comprare una casa o devi vendere una casa eccetera eccetera, o devi presentare un progetto, tu prima devi avere la regolarità urbanistica dell'immobile, la certezza della regolarità urbanistica, allora per avere la certezza della regolarità urbanistica tu devi fare un accesso agli atti, la prima cosa, quindi questo ufficio che è un front office, perché è l'ufficio che forse vede più pubblico, per quanto è stato leggermente potenziato non riesce a dar risposta alle centinaia di mail che arrivano tutti i giorni di richiesta, primo, secondo c'è un problema nei provvedimenti, allora il decreto 380 dice che le amministrazioni devono andare a risposta entro 60 giorni al permesso di costruire, 30 giorni di istruttori e 60 risposte. Qui il Comune ha fatto deliberatamente, basandosi sull'articolo 7 del 380, che poi non dovrebbe essere applicato in questo caso, ha spostato i termini a 120 giorni, quindi oltretutto noi dilatiamo, cioè il Comune ha dilatato le risposte, capito, in maniera così deliberatoria, in maniera libera, senza avere motivazioni serie, perché l'articolo 7 dice che per opere pubbliche complesse può essere dilatato a 120 giorni, non per un permesso di costruire una casetta, quindi noi chiediamo un potenziamento, che i termini vengono riportati a 60 giorni e che si riesca a dar risposta, perché adesso se non riusciamo a far ripartire l'economia con l'edilizia non riparte più.